Tutti oggi ci troviamo sul campanile di Campo Antonio e vediamo le campane. Allora abbiamo la campana grande. Muove il tocco? Sì, il tocco della campana grande, scusate. A un tocchino se vuoi fare. La seconda. Allora mi sposto qui. No, non mi sposto qui che è meglio. La terza e la quarta. Io provo la quinta. Provo a suonare la... Aspetta. Vediamo. Questo è il bel panorama che si vede dal campanile. Un po' di montagne. Qui la scritta. È molto vecchio questo campanile, come le campane, del 1870. Vediamo. Guarda, è bellissimo qui. Purtroppo non si riesce a vedere Alagna, però... Comunque... È bellissimo. E niente, vi lascio delle immagini delle campane. Questo è il pezzo? No. Non saprei... Secondo me... Non so. Sì? 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 Vicky, attento che lì c'è il blu qua. Se prendi male, caditi come un salame. Fai male. Sì? 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 No, 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 no. Hanno lasciato la doppia ruota, quindi c'è ancora quella... ISPITALI. Infatti era capitato un periodo che non funzionava perché aveva avuto il computer su... Almeno sulla terra dove avevamo messo la porta e la scritta spagna. Sì? Quasi 9 anni, mamma mia, mamma mia, sono arrivato buone.